Spiagge pesaresi movimentate a Ferragosto, diverse le segnalazioni di cittadini e attività commerciali che non hanno voluto prendere in considerazione l'ordinanza del sindaco Ricci, che vietava balli e feste per la giornata con obbligo di indossare la mascherina. Il rimprovero da parte del sindaco non è tardato ad arrivare in alcuni stabilimenti balneari e intervenuto chiedendo al comandante della polizia locale e alle autorità che hanno redatto i verbali di predisporre la chiusura per due giorni di bar e ristoranti che non hanno rispettato l'ordinanza. Tra questi sono stati sanzionati Itacabiche e Maia Bay di Sottomonte per non aver contenuto la folla che si è messa a ballare. Sì, abbiamo avuto una sanzione, sono arrivati i vigili alla sera verso le 10 e ci hanno comunicato la sanzione e ci hanno detto che ci arriverà comunque la sanzione i prossimi giorni. Ai vigili così gli sono arrivate delle segnalazioni, anche se noi, premetto, è il primo anno che gestiamo un lido balneare e c'eravamo comunque premuniti per rispettare tutte le sanzioni, avevamo comprato 300 mascherine, avevamo i buttafuori, volevamo fare musica d'ascolto per i nostri clienti, essendo Ferragosto, quindi non li volevamo noiare ma soltanto divertirsi un po' tra di noi e infatti fino verso le 5 era tutto a norma. Ovviamente c'era gente, a Ferragosto penso che c'era gente in tutte le spiagge, non solo da noi. Il DJ ha comunicato anche 3-4 volte di non fare assemblamenti, di non ballare, ma quando è stato verso le 5-6 è arrivata altra gente anche dalle altre spiagge e non c'erano solo i nostri bagnati ma c'erano altra gente. Però se abbiamo sbagliato chiediamo scusa e paghiamo quello che dobbiamo pagare. Ai bagnitaca sono a corse le pattuglie dei carabinieri della municipale dopo una ventina di chiamate dei passanti. Il gestore non è voluto intervenire ai nostri microfoni, sulla stampa si apprende che pagherà la sanzione, conferma che c'è stato il caso di assembramento, ma non se la sentiva di spegnere la musica di fronte alla gente che ballava. Il sindaco, consultandosi con il prefetto, ha chiesto un'informativa scritta al comandante della Polizia Municipale sui motivi per cui gli organi deputati e la vigilanza, tra cui forze dell'ordine comprese, non hanno garantito l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ordinanza. In una nota, il comandante della Municipale, Gianni Galdenzi, fa sapere che i bagnini pagheranno se hanno sbagliato, mentre il sindaco avrà una relazione quanto prima, come è stato chiesto via Social Network. Stop alle danze anche a livello nazionale. Il governo ha deciso di sospendere tutte le attività del ballo, che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, ai locali assimilati, tra cui anche le spiagge a partire da oggi, e di obbligo mascherina dalle 18 alle 6, anche all'aperto e nei luoghi pubblici. La decisione avrà effetto almeno fino al 7 settembre prossimo. Grazie a tutti.